La Chiesa per i primi mille anni non si interessa granché del matrimonio, il matrimonio è una roba che ha a che fare col sesso, è celebrato dalla gente fra scherzi o sceni di tutti i tipi, le prime regole della Chiesa sui matrimoni sono regole che dicono i preti non devono partecipare ai matrimoni, che stiano alla larga da queste cose che fanno i laici, d'altra parte però se un prete poi per conto suo si vuole sposare, perché no? La Chiesa da sempre dice la castità è una bella cosa, ma per mille anni non si è mai sognata di pretendere che i preti non si sposassero. Al massimo la Chiesa nei primi secoli interviene per dire sì però questa cosa che voi divorziate, ripudiate le mogli, ne prendete un'altra, poi di nuovo un'altra, andate a letto con le schiave, poi fate dei figli e poi gli volete lasciare l'eredità anche, cercate di essere un po' più regolari nella vita. Questo la Chiesa tende a dire, basta. Poi viene un momento dopo l'anno 1000, dopo che la storia del cristianesimo è già arrivata a metà circa, intorno a metà della sua storia la Chiesa cristiana pian piano comincia a decidere che la sfera del matrimonio e della famiglia è troppo importante per non regolarla. regolarla. La Chiesa decide che vuole insegnare qualcosa ai cristiani, ma non solo insegnare, imporre qualcosa ai cristiani anche in quell'ambito, perché ci sono spazi di miglioramento. Spazi di miglioramento c'erano anche prima ma erano ridottissimi. Io ricordo una legge di Carlo Magno, imperatore, che dice regolamenta la vita del clero, stabilisce alcune cose sagge e sensate, come per esempio che i preti non devono andare in guerra, non devono ammazzare la gente. E poi già che c'è, dice anche, e i preti non devono avere più di una moglie, se no sono peggio dei laici. Questo è il massimo che si faceva ai suoi tempi, ma dopo l'anno 1000 la Chiesa cambia linea, decide che il matrimonio è un sacramento, non lo era minimamente, per mille anni il matrimonio non è stato un sacramento, ma dal XIII, XII, XIII secolo in poi diventa un sacramento. E allora vuol dire che la Chiesa comincia anche a dire chi può sposare chi. E siccome si trovano nell'eredità giudaico-cristiana queste preoccupazioni della consanguineità, la Chiesa decide di fare un regolamento preciso. Ora, su questo concludo. Quando fai un regolamento, uno statuto, e ciò che prima era lasciato al buonsenso, diventa una cosa che bisogna fare seguendo delle regole scritte, ti metti nei pasticci. Questo lo sappiamo nell'università, da quando ci sono i regolamenti, gli statuti, eccetera, è tutto molto più complicato. Non c'è alcun vantaggio, ma solo mille complicazioni. Una volta che la Chiesa decide che questa faccenda del matrimonio fra consanguinei va regolata, molti intellettuali di grandissimo livello si mettono a ragionarci su. E allora la domanda è, fin dove è vietato sposarsi? E ci sono risposte diverse, e ci sono gli zelanti che, per non sbagliare, allargano. In realtà sarebbe ora di introdurre anche una distinzione concettuale che finora non abbiamo ancora introdotto. Perché noi, quando parliamo di famiglia, in realtà ci riferiamo a delle sfere concentriche, diciamo così, che non sono la stessa cosa. Voglio dire, quando io dico la mia famiglia, posso dire io, mia moglie e i miei figli, viviamo insieme, siamo una famiglia. Però poi, in ogni epoca, il concetto di che cos'è la mia famiglia è stato allargato in vari modi. Io oggi, se penso a che cos'è la mia famiglia, chi sono le persone che considero la mia famiglia, penso, per esempio, ai miei, come dire, finché c'erano, ai miei nonni e zii, e ci sono ancora i miei cugini da parte di padre, ma anche da parte di madre. Noi oggi, credo, non facciamo nessuna grossa differenza fra i parenti da parte di padre e da parte di madre. Quelli vivi della nostra generazione o della precedente che frequentiamo sono la nostra famiglia. E in una certa misura io credo che noi tendiamo a considerare nostra famiglia anche i parenti di nostro marito o nostra moglie, con i quali abbiamo rapporti... Ora, questo, che può sembrare ovvio, è invece precisamente quello che nei secoli è cambiato. Non ogni società allargava nella stessa direzione il concetto di famiglia. Non ogni società e non ogni classe sociale. Per esempio, per un aristocratico del Medioevo, la sua famiglia erano i suoi antenati, ma da parte di padre. Quelli da parte di madre erano altra cosa, altri lignaggi, rivali. La mia famiglia sono mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, e fin dove posso arrivare? Quelli che mi hanno tramandato un cognome, uno stemma, che si trasmette di padre in figlio fra soli maschi. A ogni generazione dobbiamo prenderci delle donne, per forza, perché se no non riusciamo a fabbricare altri maschi. Ma l'unico scopo è fabbricare altri maschi. Sto sempre dicendo come ragiona un cavaliere medievale, sia chiaro. L'unico scopo è fabbricare altri maschi. Purtroppo vengono fuori anche delle femmine, cercheremo di farne qualcosa. Gli possiamo anche voler bene, non è che non volevano bene ai loro figli e anche alle loro figlie. Ma il subconscio collettivo di cui parlava Emanuel Todd e anche i valori consci trasmessi con l'educazione dicevano gli unici che contano per la famiglia sono i maschi. Le femmine le farai sposare e andranno da un'altra parte dove non saranno considerate membri della nuova famiglia perché vengono da fuori. Io sono responsabile verso la mia famiglia, cioè verso i miei antenati maschi che mi hanno trasmesso una posizione dei possedimenti e sono responsabile verso di loro. Oggi chi di noi si sente responsabile verso il bisnonno di non vendere la carne? Figuriamoci. Invece loro sono responsabili per generazioni e generazioni e anche verso il futuro. Sono responsabile verso la discendenza, verso i figli e i nipoti che porteranno il mio stesso nome e quindi magari investirò un sacco di soldi per fondare una cappella nella cattedrale stabilendo che il prete che dirà messa in quella cappella per me e per i miei antenati e per i miei discendenti della mia famiglia sarà nominato dal capo della mia famiglia che si sarà in quell'epoca. Sarà un bene di famiglia ma è tutto fra maschi ed è proiettato nel tempo all'indietro e verso il futuro in un modo che noi non ci immaginiamo assolutamente di fare. E quindi queste cose appunto cambiano a seconda delle epoche. Ma comunque il punto è, è possibile che quasi tutte le società guardino con orrore all'idea che fratello e sorella si sposano? Quasi tutte eh? Poi i faraoni si sposavano tra fratello e sorella e forse anche altre società. Allora se ci sia una qualche consapevolezza misteriosa del fatto che i matrimoni tra fratello, sorella o l'incesto tra padri, l'incesto tra genitori e figli è ugualmente guardato con orrore in tutte le società che io conosco, poi ce ne possono essere altre, ma appunto qui per dire se davvero ci sia qualcosa che agisce in profondità e che ci mette in guardia contro dei rischi dei matrimoni tra consanguinei, io questo non lo so, scusate, e lo chiederei volentieri appunto al nostro collega. Mentre quello che sappiamo da studiosi della nostra società, la società europea, la società occidentale, è che a un certo punto la Chiesa ha deciso di occuparsi del matrimonio. Anche questa non è una cosa ovvia, badate eh? Quasi tutte le cose che noi diamo per scontate, specialmente nel campo dell'azione della Chiesa, sono più recenti di quello che pensiamo. La Chiesa, noi immaginiamo il matrimonio cristiano che a noi oggi sembra la cosa più tradizionale che si può fare e quindi ovviamente lo proiettiamo all'indietro nel tempo e ci sembra ovvio che anche nel Medioevo o nella tarda antichità ci si sposasse andando in Chiesa dal parroco che all'altare dice messa, ti dagli anelli, ecco ci sembra ovvio. Ci sembra talmente ovvio che facciamo fatica a immaginare qualcosa di diverso. Io non so se voi avete mai visto quella bellissima peraltro serie televisiva che si chiama Games of Thrones, il trono di spade. Il trono di spade è una serie che immagina un mondo vagamente medievale ma lì inventato dove si può inventare tutto quello che si vuole. Lì gli sceneggiatori sono liberi di inventare qualunque cosa. La prima volta che c'è un matrimonio si sposano il principe ereditario e una principessa, la scena si sposta all'interno del tempio, non sono cristiani naturalmente, venerano strani dei, ma hanno un tempio che assomiglia stranamente a una cattedrale con un altare in fondo, con un prete all'altare, due file di ospiti schierati lungo i banchi che aspettano l'arrivo della sposa. La sposa arriva al braccio di suo padre, tutti applaudono. In altre parole, gli sceneggiatori che potevano inventarsi qualunque cosa, dovendo immaginare un matrimonio in un mondo immaginario, l'hanno immaginato identico a come ci si sposa in chiesa oggi. Dopodiché, ancora al tempo di Dante e, mi voglio rovinare, di Lorenzo il Magnifico, non ci si sposava così. Nessuno sarebbe sognato di fare una roba del genere. Sposarsi voleva dire che dopo che le famiglie si sono messe d'accordo si va dal notaio e il notaio in quanto funzionario pubblico, redige tutti i documenti e poi si scambiano gli anelli marito e moglie davanti al notaio. E poi ci sono grandi festeggiamenti, certo, perché poi il momento che la gente vede è quando il marito va a prendere la moglie a casa di suo padre e la porta a casa propria, attraversando pubblicamente la città in corteo e lì ci sono gli amici che festeggiano, fanno scherzi, quello è il matrimonio. Se poi in quei giorni di feste vuoi anche fare un salto in chiesa e farti benedire un momento dal paroco, nessuno te lo impedisce, ma assolutamente. Quindi il matrimonio cristiano, che a noi sembra la cosa più antica del mondo, è una cosa relativamente recente. Cioè noi vediamo il mondo e ce lo aspettiamo in un certo modo. Poi ci sono ambiti nei quali lentamente accettiamo il cambiamento. Voglio dire che quando io sono nato a Torino nel 1959 c'era già qualche pizzeria e l'idea che si potesse mangiare una cosa chiamata la pizza non era già del tutto estranea alla generazione dei miei genitori, mentre sarebbe sembrata molto bizzarra 50 anni prima. Ormai da parecchi anni ci sono anche i kebab e ci siamo anche abituati a mangiare il kebab. Ma come tutti sapete su queste cose ogni tanto poi nasce qualche piccola battaglia identitaria. E lì stiamo parlando di cose che ti vengono messe sotto il naso, letteralmente. E fra l'altro annusandole ti rende anche conto che sono buone. persone. Invece in altri ambiti noi abbiamo dei modelli mentali, non sono cose che esistono fisicamente. Abbiamo dei modelli mentali e ci immaginiamo che sia ovvio e universale quello che è la nostra esperienza. Anche quando sappiamo, adesso torno a insistere, lo faccio con particolare piacere perché come medievista questi problemi dei cambiamenti nel mondo cristiano e nelle regole della chiesa sono una delle cose più interessanti che avvengono appunto nel medioevo. Anche quando noi abbiamo di fronte e tocchiamo con mano l'esistenza di modelli diversi. Per esempio tra i cristiani ortodossi i preti si sposano. Ma io darei per scontato che la percezione normale di un cattolico italiano è che strana gente, quella strana gente fa delle cose insolite e bizzarre. Per esempio i loro preti si sposano. L'idea, i preti si sono sempre sposati, sono quelli cattolici che a un certo punto hanno smesso di farlo, non può venirti in mente finché non te lo insegna il professore a lezione nel corso di storia medievale perché non fa proprio parte del nostro modo di vedere le cose. E non è anche scandaloso perché noi abbiamo bisogno ovviamente di tutti noi vediamo il mondo attraverso una serie di filtri che sono quelli della nostra educazione, della nostra esperienza, dei nostri valori. Diciamo che è utile sapere che i filtri altri magari hanno dei filtri diversi e non necessariamente peggiori. Ecco quello è utile saperlo. Poi ognuno ha il diritto comunque di conservare ovviamente i propri punti di vista e anche di preferire la bagna cauda alla pizza volendo. Effettivamente dell'economia una volta non importava assolutamente niente a nessuno, nel senso a tutti importava di fare soldi, a tutti importava di fare affari e di arricchirsi. Non è detto che ai governi importasse invece molto il fatto che la società che governavano si arricchisse più o meno, ma in ogni caso la cosa non veniva pensata. Noi oggi usiamo il termine economia e sappiamo benissimo che è un termine greco, ma i greci non lo possedevano questo concetto. Quando gli antichi, né i greci né i romani, loro passavano in rassegna le possibili scienze, i possibili campi di cui l'uomo si può occupare, nessuno si sognava di pensare che tutti i fattori della produzione, della circolazione di merci, del denaro, dei prezzi, dei salari, della ricchezza formassero una disciplina unitaria. Non esisteva proprio il concetto e quello che è certo è che per gran parte della nostra storia i governi, certo, all'occasione si interessavano anche di aspetti che noi chiameremmo economici. Poteva capitare che il litigio di un comune medievale col comune vicino nascesse dal fatto che quelli ai nostri mercanti fanno pagare un pedaggio troppo forte quando passiamo sul loro territorio e i nostri mercanti si lamentano e in quel caso un governo che era abituato ad ascoltare le richieste che venivano dagli enti più diversi, poteva anche ascoltare le proteste dei mercanti e si poteva anche fare una guerra per convincere il comune vicino oppure il conte vicino a non far più pagare il pedaggio ai nostri mercanti, ma era occasionale. Normalmente i governi pensavano alla potenza del proprio paese, alle possibili espansioni, alla gloria, alla compattezza religiosa del proprio paese in epoca medievale e moderna. Queste erano le cose di cui si preoccupavano i governi. Se un qualunque governante del passato vedesse i nostri governanti, i quali non fanno male a preoccuparsi anche dell'economia, ma certamente rispetto ai governi di tutta la storia passata, sembrano assolutamente convinti che l'economia risolva anche le altre cose e questo appunto a chi fa il nostro mestiere viene un po' l'impressione che sia, come dire, uno sbaglio di prospettiva. Vabbè, sulla conclusione, e cioè alla larga dagli economisti, sarà la prima cosa su cui ci troviamo d'accordo. Parliamo male degli economisti. È fin troppo facile del resto perché se gli economisti conoscessero davvero la loro materia, l'economia non sarebbe nello stato in cui è, evidentemente. Ma questo, diciamo, questo è il meno. La prospettiva, il centro del discorso di Emanuel Todd è il tramandarsi di un inconscio che rispecchia le forme della famiglia così come le hanno conosciute gli antenati e che in effetti da una zona all'altra d'Europa, ma anche da una zona all'altra d'Italia, hanno delle diversità. È verissimo. È interessante, credo, aggiungere una cosa che Emanuel Todd sa benissimo ma non ha detto adesso perché non aveva il tempo di dirla e cioè che naturalmente a loro volta queste diversità delle strutture familiari non sono un dato indipendente per cui chissà perché in Emilia la famiglia è fatta in un certo modo e invece in Piemonte in un altro, ma a loro volta sono frutto di condizionamenti storici. E qui la cosa forse più interessante rispetto all'idea che noi possiamo farci della famiglia nel passato è che in un passato abbastanza remoto, nel pieno del Medioevo, la famiglia in realtà assomigliava molto come la conosciamo noi. noi rischiamo di averci un'idea della famiglia del passato appunto sulla base della famiglia contadina delle regioni di cui parlava Emanuel Todd, le regioni della mezzadria. Avete presente l'albero degli zoccoli di Ermanolmi? No, ecco. Noi ci immaginiamo la famiglia contadina di quel tipo. Quella era la famiglia contadina che operava in un sistema dove c'era la mezzadria, dove la terra, semplifico un po' naturalmente, ma all'ingrosso i contadini non avevano terra, coltivavano terra altrui. La terra era dei borghesi delle città, era dei borghesi di Firenze, di Siena, di Bologna, di Modena e i contadini la prendevano in affitto e il sistema era la mezzadria e cioè il padrone mette la terra e i contadini ci mettono il lavoro e più sono i contadini a lavorare più riescono a sopravvivere, a ricavare un certo margine. Se siamo in tanti possiamo prendere un podere un po' più grande, siamo due fratelli, restiamo insieme e prendiamo insieme un podere più grande. I figli restano a lavorare col padre che poi diventa il nonno ma è sempre lui il titolare perché è lui che col padrone fa gli accordi ogni anno e quindi nasce questa grande famiglia allargata a cui il padrone mette a disposizione le cascine, i rustici dei poderi con tanto spazio perché in tanti ci possano vivere insieme. Nell'anno 1000, quando la mezzadria non esisteva e i contadini senza terra prendevano in affitto un pezzetto di qua, un pezzetto di là, come gli tornava più comodo, però poi con affitti perpetui perché nel medioevo guardavano a lontano, non è come con la mezzadria moderna che dopo un anno ti buttavano fuori. E allora nel medioevo non funzionava così perché un contadino prendeva tanta terra quanto bastava a lui. Quando i figli erano grandi non c'era sovrappopolazione, trovavano da qualche altra parte qualcuno che gli affittava un po' di terra e andavano per conto proprio e la famiglia contadina era nucleare, il padre e i figli. Quindi verissimo che invece poi in certe zone si afferma la grande famiglia che a noi sembra così arcaica, patriarcale, col patriarca che rappresenta l'autorità e tutti gli altri sotto, ma è un prodotto del tardo medioevo e dell'età moderna in certe zone d'Italia. Dopodiché non so se sia così anche nel Massif Central o in Vietnam naturalmente, ecco, questo non è.